La seconda edizione del concorso Storie sotto il vulcano Partito stamattina dalla stazione Borgo di Catania E che ha attraversato le stazioni dei vari centri pedemontani A bordo, studenti, insegnanti e appassionati di libri Sono stati coinvolti in attività di lettura Ed ogni tappa ha costituito un momento di condivisione culturale Con scolaresche e rappresentanti delle istituzioni Durante la sosta presso la stazione FCE di Santa Maria di Licodia Ivi24 ha intervistato Monica Maimone Responsabile del concorso Storie sotto il vulcano E l'editore Giuseppe Maimone Si rinnova quest'anno l'appuntamento con Storie sotto il vulcano Qual è il ruolo della vostra casa editrice nell'organizzazione di questo evento? Sì, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con un pensiero prevalente Quello di portare i ragazzi alla riscoperta del nostro territorio Grazie anche al supporto dei comuni dell'area Ettennea Che hanno sposato il progetto Siamo riusciti a passare dall'anno scorso a mille partecipanti Già a 2500 partecipanti Oggi è una giornata particolare Anche l'anno scorso l'abbiamo festeggiata La giornata mondiale del libro E quindi siamo felici come ogni anno Di fare il giro attorno all'Etna Sulla littorina della ferrovia circunmettennea E avere tutte queste occasioni d'incontro L'orgoglio di riunire oggi qui in questa giornata Tutte queste scolaresche e queste rappresentanze delle amministrazioni Sì, l'orgoglio ma soprattutto un impegno Che continua per il secondo anno Perché desideriamo in prima istanza Far sì che i ragazzi escono dalle gabbie Dei programmi scolastici E vivano delle esperienze Attraverso le quali possono conoscere meglio il territorio Incontrare altri giovani Scambiarsi delle idee, delle opinioni E soprattutto crescere In un luogo che appunto Conoscendolo possono amarlo E rispettarlo di più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti